Villasmundo viola i domiciliari per portare a spasso il cane arrestato dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Villasmundo hanno arrestato un pregiudicato 33enne catenese per avere più volte violato le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto presso la frazione melillese per avere commesso una serie di rapine nella provincia di Bologna. L'uomo infatti veniva più volte sorpreso dai militari dell'arma mentre tranquillamente passeggiava per le vie cittadine con il cane di famiglia e con in braccio il figlio minorenne. In un'occasione, prima di allontanarsi da casa, aveva comunicato falsamente alla centrale operativa della compagnia di Augusto di essere rientrato dal lavoro ma in realtà i carabinieri lo hanno sorpreso in giro senza giustificazione. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Cavadonna come disposto dalla Corte di Appello di Bologna.